...allora è iscritto a parlare con il signo esplosico, è l'attore Angela Lussi. Ok. Bravo. Ok. allora Allora, per un attore lei... Presidente, ero fuori a una, sono entrata, e c'è regolo del fatto personale perché l'assessore chiaramente parlava in un articolo del Roma. Allora, la situazione è che lei ha iniziato, io comprendo che lei è adesso arrivato alla guida... Posso continuare? Lei adesso è arrivato alla guida, lei ha parlato di eredità, no? Le eredità pesante, perché, come abbiamo già ripartito, non sappiamo l'entità reale dei dettivi, bisogna fare una ricondizione. Abbiamo parlato anche di esibili attivi per 130 milioni di euro. E noi dobbiamo fare anche una ricondizione di questi esibili attivi e vedere quali sono quelli restritti, perché è un po' sano di andare con i euro. E abbiamo anche, in fondo, i renditi di tutte esibili attivano 80 milioni di euro. Però 80 milioni, quindi diciamo tutto, no? E voi ragionate, perché parlare poi di parlare, di non dichiarare di sesto, o di di sesto. Però dite, noi dobbiamo comportarci come se fossimo in quelli stesse, quindi tagliare comunque i servizi senza gli altri. E se è questo, ma lei questa, lei questa sì, lei ha parlato di stesse, di stesse dicendo che quella ha pesato tutto sulla testa dei cittadini. No, no, no. Non è una testa di cittadini. Ma spesso la testa di cittadini? No, no, no. Non è una testa di cittadini. Non è proprio questo. Allora, non è un po' di loro. E se sei, guarda un po'. Non è un po' di loro, ho detto che per gli stessi o gli stessi, per essere scelto e per far cadere tutto sulla testa dei cittadini, deve essere supportato dai numeri che attualmente nei bilanci attuali del Comune non ci sono. Prendiamo un avanzo di amministrazione accantonato di 90 milioni di euro. Dico, sai che cos'è il fondo? I soldi sai che cosa sono? Ma a me sono andato. Non sai che cosa sono i fondi. I fondi è spesa potente, sono vostre collettive detenzate. Il fondo condizioso è soffrae spesa potente a Comune. E noi teniamo 90 milioni di avanzo, teniamo 130 milioni di mesi quartini. Ma non è un po' di loro spesa potente, ma non è un po' di loro spesa potente, ma non è un po' di loro spesa potente. E tu scusiti, io sono un po' di loro spesa potente. Andiamo a parte. L'avete fatta. Andiamo a parte. Poi in questo mese... Scusi con la giornata, non è un po' di loro spesa potente. Allora, ok, allora la consigliere è di abbandonare l'aula. Abbandona l'aula. Ok, ok. Allora, 5, 20, 21, 21, 22, 22.